Non sono un critico d'arte, ma come figlio di Rocco Genovese vorrei dire alcune cose sulle quali sto riflettendo e che credo siano solo un accenno di quello che si potrebbe dire. Vorrei fissare alcune idee a proposito delle sculture in polimetacrilato di mio padre, iniziate nel 1968 e poi terminate poche anni dopo, nel 1970. Materiale difficile da lavorare, costoso e ancora innovativo, esperimentale all'epoca. Una serie di sculture astratte, sempre risolte con una sovrapposizione di piani incollati, secondo la sua tecnica di lavoro, e poi successivamente levigate all'esterno. Endomorfo rosso, endomorfo bianco, endomorfo nero, la notte, l'alba, l'aurora, eccetera. Grande entusiasmo da parte di Rocco, tanto da presentare i pezzi su basi in polimetacrilato trasparente e su piedistalli in pietra serena o peperino. L'endomorfo nero, oggi di proprietà di Bruno Piattelli, sembra una pietra di un materiale di altri pianeti, una grande ossidiana. Mi hanno raccontato, ma io ero giovane, che alla mostra alla Galleria Artivisive di Silvia Franchi, in via Angelo Brunetti, fu invitato e andò anche a Argan. Nella mostra antologica alle fabbriche chiaramontane di Agrigento, mostra presentata da Marco Meneguzzo, mi viene richiesto esplicitamente di esporre alcune delle sculture in metacrilato. Le richiedo anche ai collezionisti, avendone io in proprietà soltanto tre. Una sala è dedicata a questi pezzi, la mostra è molto ricca e anche l'allestimento è preciso. Bello il catalogo della Silvana Editoriale. Tornando alle plastiche e agli endomorfo, esomorfo e soendo, si è parlato poco dell'interesse di Rocco per alcuni scultori, oggi gravemente dimenticati, nel senso di poco esposti, come tutta la scultura di quel periodo. Grandi scultori come i russi Naum Gabo, Pevsner, altri come Fritz Votruba e per finire brancusi che Rocco amava tanto. Analogie a sottolineare la qualità di tali opere e della collocazione storica che oggi gli si nega. Tornando alle opere di Rocco, un altro aspetto preso poco in considerazione è l'aspetto matematico oltre che geometrico del suo studio, che anche se scientificamente da lui stesso non totalmente considerato, apre la strada ad applicazioni sia nell'architettura che nel design. Si parlava già in quegli anni di architettura e computer. Oggi le rotating tower, l'architettura dinamica, generativa, mostra analogie evidenti con le forme create da Rocco, proprio per il procedimento geometrico per piani. Ovviamente la scultura non ha funzione, il concetto processuale è diverso e uno scopo rivolto più al mito e al classicismo imponeva alle scultore una forma anatomica. La proporzione di tali pezzi, forse casuale e intuitiva, potrebbe essere calcolabile. Potrei proseguire analizzando i pezzi uno per uno, cercando di approfondire ogni particolare, compresa la manualità, cioè la tecnica, il segno, come si fa per la pittura. I colpi di raspa finali, la levigazione del legno, fanno parte del lavoro scultoreo, proprio come per un pittore si esamina la pennellata o un'altra tecnica. È anche quello che in molti casi ci porta a volerla toccare, a carezzare, nonostante mio padre non accettasse questa cosa, ovviamente per un concetto di salvaguardia dell'opera. Rocco studiò architettura quasi fino alla laurea. Conosciuti alcuni artisti del gruppo origine si dedicò quasi completamente all'arte visiva. L'architettura sicuramente lo interessava e cercò di farla studiare anche a me, facendomi iscrivere alla facoltà, ma questo per dire che nel suo creare le sculture c'è stata sempre un'intenzione a collocare le opere in ambienti moderni, anche completi di arredo. La scultura nel senso classico del termine, la scultura che arricchisce la casa come richiamo alla bellezza, alle qualità migliori dell'uomo Faber. La casa come struttura culturale, come focolare che raccoglie il senso dei migliori valori della società. Le opere legate al proprio periodo storico, ma anche riferite, nei concetti e alcune nelle forme, alle visioni culturali di antiche società. Soprattutto la Grecia era nel suo immaginario più sentito, nei miti, il talamo di Ulisse, la quasi nudità di una casa greca, la purezza, senza orpelli. Probabilmente utopico questo, in una società che rompeva gli schemi e contestava tutto ciò che era borghese, in un periodo in cui Lucio Fontana tagliava le tele e Burri bruciava le plastiche. Sembra alle volte che a fare la storia siano soltanto gli innovatori, quelli che scoprono nuovi linguaggi, che sono all'avanguardia. Le cose vanno viste con più profondità e con meno pregiudizi. Se il Novecento non avesse preso in considerazione l'arte africana, oggi forse neanche la considereremmo.